qualsiasi youtuber mi può fare una sega come metodi di come vado io nei posti lo so fare l'ho inventato io vabbè qua ragazzi io ho incontrato i meccanici ferrari a ballare se questi poi sono in dengover a fare i pit stop non è colpa mia grazie a voi non è colpa mia sono coglioni loro e non è colpa proprio del sottoscritto a casa mia non è una mignotta una ragazza che vengono i proposti di regali a casa mia non è una mignotta una mignotta è quella che fa sesto in cambio di soldi parlami d'amore ma io non mi trattate male Asia tutta la mia vita sei tu che bocca hai scusami ma io? eh no io ho messo luci da labbra col cuore che batte più forte ma che ma scusatemi ma che servizio è? posso vederlo? mi dite che servizio è? non è l'arena che seguono tanta gente e ti dico che poi cioè è un lavorone cioè un lavoraccio più che altro ho ho giorni ore stabiliti per ogni persona non sono tutti accavallati io conosco un po' di manager che seguono tanta gente e ti dico non mi ero d'accordo cioè io ho voluto fare un po' di super partner perché c'è un lavoraccio ci stava a essere super partner Fabio dice guardate solo dopo aver visto tutto il reddit durante il video potrebbe essere spoiler calispera modificati calispera shat calispera perché c'è dei greci? calispera Andrea calispera Enrico sono Giorgio Bot la voce che c'è sempre in live da Andrea e oggi anche il vostro analista di fiducia sono un tuttofare in passato ho fatto anche il cuoco il chimico il professore di varie materie iniziamo subito con l'analisi per prima cosa iniziamo con il grafico della live del 26 maggio 2022 come possiamo notare abbiamo il grafico con quanti spettatori c'erano e le linee verticali che ci dicono quando è stato cambiato il titolo mentre i quadrati sopra sono le clip che sono state create durante la live che ci serviranno dopo vediamo che alle 21 e 37 Andrea inizia la live e come sempre all'inizio crescono gli spettatori poi vediamo che alle 22 e 20 o mi cambia il titolo della live per 10 minuti crescono gli speck ma poi per una mezz'ora si stabilizzano successivamente alle ore 23 e 7 come vediamo da questa clip creata entra nella live Matteo e qui gli spettatori crescono esponenzialmente a mezzanotte e 19 come possiamo vedere da questa clip finisce tutto e molti speck escono ora spostiamoci sul Reddit che normalmente per ogni live ormai ci sono 2 e 3 post ma vediamo quanti ne ha creati quella live chiudete gli occhi chiudete gli occhi chiudete gli occhi chiudete gli occhi che li guardiamo dopo chiudete gli occhi chiudete gli occhi è stato un piacere farvi questa attenta e semplicissima e completa analisi che tutti riescono a fare senza spendere minimo 200 euro a presto dal vostro Giorgio Bot tutto fare cali spera a tutti e buona continuazione di live non so perché parli in greco ha detto tutto e non ha detto niente comunque quando l'ha detto è stato interessante Twitch Italia Remix All Star Jam ho fatto un buco sulla porta grazie al cerbero grazie al cerbero va bene eeeh do vito una tua massima una tua massima una tua massima una tua massima oh mia tol parassita eeeh cheeeh mi è piaciuta mi è piaciuta mi è piaciuta grazie a Jack eeeh è stata figa lo sai poteva andare peggio con le capre delle tue Instagram stories potevi fare il talencio quello che dici tu per te perché me ne prego buonasera ciao modificati ciao io sono l'amministratore delegato di una holding di partecipazioni che detiene quasi 70 partecipazioni in aziende controllate sono beni di quello che di quello ci vediamo presto in aula mi fa più ridere che ti ho previsto no è divertente disgrazio uccello bravissimo per te oh mio mio c'è 7 per te piccola 5 carte vediamo un po' come ci lascia questo Shuba vanno alle cialce sono un po' di middle però sei una puttana mi hai lasciato da solo fuori dal portone da vicino mi guarda è che guarda è che guarda mi sono state ho scusate non si fa niente 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 Ma che cavolo capiti? Ma vattene via del navolo, no? Ma vattene! Ma non si produce fuori nel navolo, tu, perè! Grazie, Sibò. Ehi, è andato male. Grazie, grazie. BASTA! Grazie, lo capito, lo capito, lo capito. Ako magkalbo, dahil, ako, tonnay kumakatao. Bakit ako magkalbo? Wal na mahal na to. Non è che, dici Easy Boy, vita ha detto uscito, però io dico full. I'm not even mad, I'm not even mad. Grazie, Gioscione. Ma non mi ha detto, è Omi. Oddio, un po' sì, un po' sì. Sai fare l'imitazione di Omi, Atole? Ma in realtà no, questa è che... Non è qualcosa che fa lui. Io so fare solo le espressioni di Omi, Atole. Fammi vedere. Non è la mia espressione. Ha una voce molto bella, Omi, Atole, una voce molto sexy. Allora, che poi io mi rendo conto... Grazie, è il primo messaggio che mi abbiano mai scritto su YouTube. Primo commento del mio primissimo video. Mi ha scritto qualcuno, che ora avrà 30 anni. Mi ha scritto, complimenti. Hai una voce, ma con la voce da 14enne. Hai una voce molto rilassante. Ti seguirò solo per la tua voce. Ah, questo l'ho messo anche like. Eravamo... Froze, Zamps, Ron... Il Cina. Io... Che avevo... Avevo meno capelli di ora. Dreddone e Johnny Creek. Dreddone... Sempre uguale, Dreddone. Anche Johnny Creek. Anche Ron. Molto, molto ricordo. Molti ricordi, molti ricordi dentro questo post. Non mi ricordo neanche dove eravamo, però... Molti ricordi dentro questo post. Di qua, di qua, bro. Eh, ha seguito la funivia. Grazie, Leo. Ha girato verso... Eccolo! Bro! No! Anzi... Che è corta, mamma! Grazie, Marvin. Ma... Mamma! Mamma! Eh, mi dispiace. Grazie. Ma dai fastidio. Molto carino. Complimenti, Gangjalf. The Thunder. Fate un applaud al signor Gangjalf.